Salve a tutti, questa è la terza lezione del corso sulla programmazione del sintetizzatore Roland D50. Allora come sempre comincio con un po' di pubblicità, come vi ho sempre detto il corso è gratis, vi prego fatemi questo favore, fra poco aprirà Sintagora, questo sito dove troverete un po' di tutto, se avete bisogno di patch, molte saranno gratuite, alcune saranno a pagamento, di schemi per esempio per Mindstage, per l'iPad, fra poco riprenderò in mano il canale, a fare musica con l'iPad, un po' di tutto, manuali, trucchetti, tutorial, lo troverete fra circa una quindicina di giorni. Detto questo possiamo cominciare, intanto ringrazio subito Giuseppe Hernandez che mi ha eliminato un gran casino, questo casino era il fatto che avevo problemi con la gestione dell'audio, microfoni che entravano in feedback, perché voi stessi vi siete tre secondi, un microfoni che andavano in mono, lui grazie al suo portento mi ha sistemato tutto, grazie. Detto questo andiamo avanti, D50, oggi parleremo del PCM Sound Generator. Allora, vediamo se funziona. A posto, ci carichiamo il nostro banco vuoto, quindi nel caso del synth storico la nostra patch inizializzata. Mi fate sapere nei commenti per i possessori di D50 se è possibile, o meglio, se il D50 ha una patch inizializzata, perché se non l'ha, faccio un breve tutorial su come inizializzare una patch, cioè o meglio, quali sono le posizioni dei parametri per avere una patch inizializzata. Comunque, nel caso del D05 o del D50 del Roland Cloud, basta creare un banco nuovo, chiamarsi la prima patch e automaticamente avete la patch inizializzata. Un attimo soltanto, che si chiude il browser. Fatto questo, andiamo in upper e prendiamo la sesta struttura, perché abbiamo bisogno di lavorare con i PCM, quindi abbiamo bisogno che i due parziali utilizzino i PCM Generator. Detto questo, andiamo sul primo parziale, quindi l'ha per 1, chiudiamo ciò che non ci serve, quindi i due lower l'ha per 2 e cominciamo a lavorare. Allora, dove abbiamo accesso ai PCM? Qua. Vedete? Quindi o lo muovete tramite il cursore, D50 storico, D05, o nel caso del nostro Roland Cloud, avete il menu a tennina. Allora, di quanti campioni stiamo parlando? Stiamo parlando di 128 campioni, suddivisi in questo modo. Scusatemi, vi vado a prendere il primo tutorial, perché l'avevo scritto io a memoria. Non me lo ricordo. Quindi andiamo qua... E voilà! Sono 47 transienti PCM acustici, che sono dividi in transienti d'attacco e loopback degli strumenti acustici. 29 transienti spettrali, questi sono molto interessanti per creare, per esempio, pad molto particolari, che d'altronde era il punto di forza del D50. 23 transienti PCM, sempre, di loop. Ok, detto questo, torniamo al nostro Pitch Read. Allora, considerate una cosa fondamentale, che i PCM del D50 sono campionati a 8 bit lineari. Il campionamento a 8 bit gli conferisce un aspetto grossolano, che aumenta notevolmente la pacca del suono, perché il campionamento più è basso, quindi più è low-fi, più ha un rapporto con la dinamica molto grossolano, quindi molto grosso, enorme. Più, al contrario, il campionamento è high-fi, quindi 16 bit, 24 bit, 64 bit, più il suono risulta dettagliato, è la dinamica più fluida. Questo genere di campionamento conferisce al D50 questa pacca mostruosa, per esempio il Pizzagogo, come se avesse una sorta di compressione naturale, che vi devo dire. Allora, cominciamo subito. Per farvi capire un po' come funziona. Considerate una cosa fondamentale, il D50 non ha time stretching, all'epoca era pura fantascienza il time stretching, quindi che succede? Che se suonate un parziale in diverse altezze, avrete l'altezza corretta, ma non avete la giusta quantità di armonici e non avete la giusta durata, cioè lo stesso suono all'ottava durerà il doppio o la metà. Quindi, andiamo a vedere. Tutti i primi campioni sono tutti transienti di attacco, all'inizio soprattutto percursivi. Per quale motivo? E là c'entra il DX7, perché il DX7 era il sintetizzatore che per eccellenza creava i suoni percursivi. Quindi è stata una sorta di manovra commerciale. Mi scuso intanto, ho dimenticato per il mio timbro particolarmente ovattato, ma come si dice, dalle mie parte, sogno raffreddato. Allora, vediamo, cominciamo per esempio con la marimba, che è il primo che vi dà. Sentite? Qual è il campione originale? In questo caso il A440. Però se io suono questo, o questo, sentite che quest'ultimo è ancora più lungo. Non è un problema, perché il sound degli anni 80 era quello, considerate che è un sintetizzatore dell'uscita dell'87, quindi il sound era proprio così. Andiamo avanti. Provate un po' di tutto fra le percussioni, vibrafoni, due xilofoni. Questa all'inizio pensavo fosse un balafone, secondo me è un berimbau. Tipico da film giapponesi. Esatto, è un berimbau sicuramente. Poi che cosa abbiamo? Hammer. Attenzione, per Hammer non si intende mica un martello da carpentiere. Si intende il rumore che fa il martello del pianoforte sulla corda. E andiamo avanti. JP Drum, Japan Drum, penso che siano... Come dei Temple Block, oppure dei Taiko, qualcosa del genere. Calimba. Rumore della penna. Quindi il rumore del plettro sulla corda. E poi i classici, quindi la Gogo. Che vi so dire? Il rumore delle unghie. Un rumore della corda pizzicata, del pic. Che senso ha tutto questo? È semplice. Considerate che venivamo in un periodo dove il campionamento era veramente dispendioso. Era caro. Era caro in risorse ed era caro in denaro. Avevamo bisogno quindi di un synth digitale. Considerate che lui poi sarà l'antecedente all'M1. Come si usano questi campioni? È semplice. Considerate che ogni suono prodotto ha due corpi ben precisi. Uno è la risultante del corpo di risonanza. L'altra è la risultante del corpo battente. Cioè quel corpo che mette in risonanza il suono. Per esempio nel caso di una chitarra, il corpo di risonanza non è la corda. È ciò che succede all'interno della chitarra, quindi il corpo della chitarra. Mentre l'altra componente del suono è il rumore dell'unghia o del plettro che colpisce la corda. Ve lo spiego ancora più facilmente. La cassa di una batteria, abbiamo il corpo risonante, quindi il suono della cassa, che è dato dal fusto. Mentre che si trova intorno ai 40 e i 60 Hz. Dopodiché abbiamo il corpo battente, che sarebbe il battente che sbatte sulla pelle, che si trova intorno ai 3.000. Noi ogni volta che dobbiamo salva a guardare un suono, dobbiamo sempre considerare queste due parti. La parte battente, quindi la parte che avvia la risonanza, e la parte risonante. Tutto ciò che sta nel mezzo non ce ne può fregare di meno. Ora certo non faremo mai un cut, perché è tutto collegato. Ma per esempio con l'equalizzatore possiamo eliminare questa parte e dare più spazio a ciò che ci serve, definendo meglio la cassa. E con questo vi ho fatto pure una lezione di mixing. Ne parleremo in seguito. Comunque, lo stesso modo, noi andiamo in programmazione di 50, useremo un parziale che genera il rumore di attacco del suono, quindi la componente che avvia la risonanza, e un altro parziale che invece si occuperà della risonanza. Considerate che abbiamo quattro parziali, possiamo scatenarci. Che cosa abbiamo poi dopo? Gli attacchi degli strumenti più conosciuti. Attenzione a questi, 16, 17, 18, low piano, middle piano, high piano. Non parliamo di dinamica, che siamo abituati adesso al campionamento verticale, quindi noi su un tasto mettiamo più campione. Ai tempi ce lo potevamo sognare. Parliamo di altezze. Vedete? Quindi è come se avete un pianoforte 16 piedi, 8 piedi, 4 piedi. Vi consente di avere un range molto più elevato. Dopodiché abbiamo, ad esempio, clavicembalo, arpa, organo percussivo, è l'attacco della percussione dell'organo, e poi di tutto abbiamo, per esempio, vibrazioni delle corde d'acciaio, quindi la dodici corde acustica, chitarra elettrica, basso col plettro, basso slappato, abbiamo sia il tumbo che è lo slap, anche qua vario ottavo, contrabbasso acustico, e cominciamo con i fiati, clarinetto, e soprattutto il classico brief, il componente di molti suoni, o shakwaki, ad esempio, o il calliope. Qua già entriamo in un altro ambiente. Qua abbiamo, cominciamo, sempre a avere gli ultimi campioni, ma tutti che abbiamo i suoni più lunghi, ad esempio, un attimo soltanto, ho dimenticato il campione per eccellenza, il pizz, vi dico, e cos'è? Eccetera, eccetera. Comincerete a odiarla, questa canzone. Dopodiché, come vi ho detto, abbiamo i campioni in loop, ma in realtà sono fatti con gli strumenti più semplici, è normale, mettono in un loop il campione di un organo, a noi ci vuole molto. Cominciamo con gli spettri. Abbiamo gli spettri, per esempio, dei violoncelli, dei violini, sono spettri, attenzione, sono piccoli, stiamo parlando dei millisecondi di campioni. Ance, sassofoni, e andando avanti, troviamo le voci. Ora, per voci voi vi aspettate di sentire i cori di Eidio, o magari della Eastwood. No. Sono i parziali della voce, che ci aiutano a dare questo effetto un po' talkbox ai nostri suoni. E cominciamo con gli spettri. Con gli spettri capite bene la grossolanità dei campioni, perché sentite proprio il loop. Vedete? È fatto apposta, va usato così, quindi la grossolanità dei campioni di 50 va vista proprio per questo genere di programmazione. Vi faccio bene un altro tipo di loop, spettrali. Questi sono interessanti per creare soundtrack, o per esempio, motion, pad, suoni del genere. Che era il punto di forza di suona maestà del D-50. E cominciano i loop. Ah, cosa importante? Dimenticavo, il noise. Per noise, non intendiamo il noise che intendiamo oggi, cioè color reale. Il noise come nasce? Il noise nasce dal fatto che tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano si trovano allo stesso volume, quindi alla stessa intensità. Automaticamente, che io suono un C0 o suono un C5, dovrebbe darmi lo stesso suono. Cosa che non succede con il noise del D-50, perché stendo stato campionato, e come vi ho detto, non esisteva il time stretching, tanto o meno il multicampione, allora lui è come se suonasse intonato. Ripeto, è una caratteristica tipica dei suoni degli anni Ottanta. E cominciano i famosi loop. Lo vedete che cambiando, cambia ora. E vanno usati con molta parsimonia. Ma potete creare effetti interessanti. Soprattutto se utilizzate il vettore, la sintesi vettoriale. Sto cercando un loop, dovrebbe essere qua sotto. C'è di tutto, ragazzi. Eccolo qua. Allora, per farvi capire l'utilizzo di questo genere di applicazioni, dovete ascoltare questo personaggio. Se voi ascoltate questo personaggio, praticamente tutto l'album Revolution è fatto con un D-50. Soprattutto il primo brano, Overture, è assolutamente tutto D-50. Ce n'è uno addirittura che è, mi pare sia l'ultimo, che è immenso. Finisce pure il rumore bianco. Esatto. Vedete? Si possono creare effetti molto interessanti, per esempio mettendo quattro parziali in PCM, quindi quattro loop, e lavorare col vettore. Vedremo più avanti quando parliamo di programmazione pura. Poi sotto avete praticamente dei campioni che sono stati già campionati con un proprio EG. Sono comodi, ma non li utilizzate mai per creare un pianoforte elettrico, un pianoforte acustico. Non è cosa. ma andiamoci chiaro. Ah, c'è sua maestà. Fate attenzione e sentite bene il loop. E vabbè, il DX7 era andato già sette anni prima, comunque in quel periodo detta legge. E basta. Poi alla fine avete, ecco, avete dei campioni, avete dei campioni per esempio per quanto riguarda le onde, le onde sync. E qua vengono, questi vengono sicuramente dal Jupiter. E avete suoni del Jupiter come per esempio il Fatsou. Che era tipico del Jupiterotto. O, oppure ad esempio, ecco, qua cominciamo ad avere i violini del Mellotron. E in futuro, boh, voci. questi sono spettri. Interessanti per pad molto complessi. Ce ne sono anche di... Interessanti. o ad esempio... ragazzi, questo pare un solo dubstep. Molto, molto di N, molto moderno. Eccetera, eccetera. E arriviamo al 128 che sono alcuni suoni in reverse, per esempio. in questo modo, noi abbiamo visto tutti i loop che possiamo, cioè scusatemi, tutti i loop e tutti i campioni che possiamo utilizzare con il D50. Come utilizzarli? i modi sono vari. Intanto quello classico è quello di utilizzarlo come transiente o come, diciamo, coperta per dare una verosimilità ai suoni acustici. Perché non vi dimenticate mai che, e questo è stato un po' non sbaglio, comunque, una delle filosofie di pensiero del sintetizzatore era quella che doveva imitare gli strumenti acustici. Cosa che col tempo abbiamo capito è impossibile per tutta la caterbata di varianti che entrano in gioco in uno strumento acustico. La seconda è quella di utilizzare i campioni in maniera totalmente fuori dal loro contesto per creare suoni totalmente nuovi. Questo D50 è modernissimo. Potete fare cose veramente pazzesche. La terza è quella di utilizzare i loop quindi con la sintetisi vettoriale o utilizzare i loop come pad. Insomma, avete molta carne sul fuoco c'è molto da fare già solo con i campioni o solo con il sound generator. Questo lo vedremo poi in una prossima lezione e ora cominciare a vedere tutte le parti di programmazione. Spero che la lezione vi sia piaciuta. Lasciatemi un bel like per piacere, attivate la campanellina e scrivetemi nei commenti. Iteraggiamo, iteraggiamo così almeno so cosa volete e posso accelerare i tempi. Vi voglio bene, un abbraccio.